Sara Burattina è stata colpita da oltre 20 coltellate, tutte ricevute mentre era di spalle. I colpi mortali però potrebbero essere stati due, al collo e alla spalla, poi il suo assassino è infierito barbaramente. Domani è stata fissata l'autopsia. Il corpo di Sara è stato trovato riverso vicino al capanno nel giardino dell'abitazione di Viale Italia, dove era tornata a vivere insieme a sua mamma e a sua figlia, 14enne. L'arma del delitto, un coltello da caccia con una lama di 15 centimetri, era accanto al suo cadavere. Dopo un rapporto durato oltre 15 anni, sembra che Sara avesse deciso di separarsi dal compagno Alberto Pittarello, tecnico caldaista, padre di sua figlia. Solo i familiari sapevano di questa separazione e Sara era tornata a casa della mamma che era rimasta vedova ad ottobre. Ieri mattina la donna è uscita senza infilare la giacca e si è diretta verso il capanno del giardino. La madre, che era all'interno della casa, dopo un'ora non vedendo la figlia è uscita e ha scoperto la tragedia e ha accusato un malore. La 41enne lavorava come assistente alla poltrona in uno studio dentistico molto sportiva, appassionata di fitness e di corsa e molto legata alla figlia.